buonasera buonasera a tutti bentornati a un'altra delle nostre live settimanali buonasera Matteo Miluzio benvenuto sul nostro canale per te una prima volta anche se io sono stato sospite sul tuo allora questa sera di cosa parliamo intitolato la live la riscossa degli sci chimici perché bisogna parlare di argomenti di argomenti importanti no allora chiaramente in queste settimane l'Italia è stata preda di fenomeni meteorologici decisamente inusuali anche estremi da qualche punto di vista abbiamo avuto la pioggia di sabbia rossa che ha portato questa sabbia rossa dal Sara insomma un po' tutto sul nord Italia poi abbiamo avuto delle bombe d'acqua che hanno causato delle inondazioni Piemonte qua in Piemonte e in Val d'Aosta soprattutto e insomma in Sicilia invece c'è siccità e questo si inserisce in un contesto di fenomeni climatici diciamo più ampi di cui fa parte l'uragano Beryl che è un uragano di categoria 5 a giugno a fine giugno prima di luglio siamo una volta ed ecco e questa cosa qua invece che far dire alle persone forse c'è qualcosa che non va non è non è normale ecco invece ha scatenato i complottisti una roba che non sono solo i negazionisti climatici che ormai ci siamo abituati se fa freddo a giugno vuol dire che il cambiamento climatico non esiste se fa freddo a giugno in Italia anche se in India e in Messico ci sono 50 gradi il riscaldamento climatico non esiste perché l'Italia è il centro del mondo ma soprattutto sono tornati quelli delle scie chimiche sono tornati in massa quelli delle scie chimiche che la sabbia rossa non è sabbia del Sara loro hanno fatto i test e c'è il titanato di Barrio c'è chissà che cosa insomma si sono scatenati i complotti quindi stasera facciamo chiarezza facciamo chiarezza con un esperto Matteo Miluzio per chi non lo conosce è admin della pagina Chi ha paura del buio una delle pagine che io consiglio sempre a tutti secondo me delle migliori pagine di divulgazione in Italia si occupano di astronomia, astrofisica ma anche di fisica dell'atmosfera e fisica climatica benvenuto Matteo di nuovo e cosa puoi dirci di cosa sta succedendo in queste settimane questo è il riassunto mani sulla faccia di sperazione in realtà è un fenomeno che ci portiamo dietro da anni però recentemente ha assunto se vogliamo un'estremizzazione ancora più radicale perché chiaramente con i cambiamenti climatici fenomeni estremi possono essere in aumento possono essere ancora più estremi e quindi è normale che chi ha sempre creduto a questi complotti si faccia ancora più vivo proprio in questo periodo quindi è ovviamente chi crede a un complotto spesso ha il pacchetto completo quindi se non credi ai cambiamenti climatici credi a cose legate alle esce chimiche credi che i fenomeni estremi come uragani o temporali o supercelli o cose di questo tipo siano artificiali eccetera eccetera quindi quello che è successo negli ultimi mesi in realtà già a partire da febbraio perché noi su Chiapro del Buio io avevo fatto un video proprio sulle scie di condensa siamo stati letteralmente sommersi da una shitstorm di oltre 10.000 commenti perché ci avevano condiviso nei vari gruppi eccetera eccetera quindi questo è un argomento per noi e per me che in questi mesi è diventato abbastanza caldo purtroppo caldo a conseguenza esatto stavo per dirlo che se ben ricordo quella vicenda di febbraio insomma non fu solo una shitstorm ci furono anche minacce, insulti pesanti insomma non fu il classico sì sì i momenti di bot della minchia no no è stata proprio una cosa anche organizzata se vogliamo in qualche modo perché una cosa del genere non è mai capitata ci furono davvero tra le varie piattaforme credo 9.000 commenti abbondanti ovviamente in quel caso lì non essendo il pirla che viene a insultarti ma proprio una cosa di massa abbiamo attivato anche proprio diciamo i nostri legali affinché ci tutelino da queste cose perché poi alla fine internet non è un luogo non è un portofranco dove le regole della società civile improvvisamente scompaiano valgono anche nel mondo online il mondo online è un mondo reale semplicemente trasformato in virtuale quindi le regole sono assolutamente le stesse motivo per cui chi ha avuto determinati comportamenti io mi auguro che le denunce che abbiamo fatto possano avere seguito e che paghino le conseguenze poi se le cose andranno in porto noi abbiamo anche un programma di devolvere una buona parte di eventuali guadagni proprio in ambito scientifico e credo sia lo smacco peggiore per chi offende e insulta la scienza comunque fatta questa piccola parentesi quello che sta succedendo negli ultimi mesi è sotto gli occhi di tutti una delle cose secondo me da dire importanti dei cambiamenti climatici ed è forse la difficoltà maggiore che noi divulgatori abbiamo nel comunicare questi cambiamenti climatici è che effettivamente sono cose che sono sempre successe i temporali forti ci sono sempre stati le grandinate violenti ci sono sempre state gli uragani ci sono sempre stati le ornate di calore ci sono sempre state quindi è difficile nella percezione delle persone capire se questi fenomeni sono in aumento perché non è come è successo per l'epidemia di covid che ci sono trovati letteralmente da un giorno all'altro con centinaia e centinaia di morti purtroppo nelle strade quindi abbiamo toccato immediatamente con mano cioè è stata una cosa immediata in questo caso si parla di cambiamenti che avvengono su anni o su decenni che coinvolgono diverse zone del globo e quindi in qualcosa che da un punto di vista delle scale spaziali e temporali non è percepibile in maniera così netta come è successo per la pandemia nella gente comune quindi è complicato comunicare un fenomeno di questo tipo ciò nonostante inizia a essere evidente anche diciamo a occhio che c'è qualcosa nel nostro sistema climatico che inizia a non funzionare anche a livello macroscopico perché un esempio è l'uragano Beril categoria 5 prima volta a inizio luglio appena iniziata la stagione degli uragani una cosa totalmente fuori dalle statistiche perché in genere gli uragani di categoria 5 cioè alla massima scala si generano verso il finire dell'estate quando i mari sono molto caldi che si sono riscaldati hanno accumulato calore dopo la stagione estiva e iniziano i contrasti molto violenti con l'atmosfera che inizia a raffreddarsi con l'autunno quindi avere un uragano di categoria 5 adesso è strano è fuori dalla statistica perché una delle cause principali è il fatto che i mari nell'ultimo anno e mezzo abbiano raggiunto temperature completamente fuori scala ed è uno dei parametri climatici magari dopo mostro anche qualche grafico che sta presente sulla nostra dashboard molto semplice molto possibile in cui si vedono proprio le temperature dei mari fuori scala questo significa che i mari nell'ultimo anno e mezzo hanno accumulato tantissimo calore cioè hanno accumulato tantissima energia disponibile per causare poi fenomeni estremi come l'uragano Beril di categoria 5 a inizio luglio che è una cosa mai successa questo succede anche nel nostro piccolo bacino mediterraneo un mare chiuso molto caldo negli ultimi anni molto più caldo della media e quindi con molta più energia disponibile per generare perturbazioni molto forti questo è successo negli ultimi anni l'alluvione nelle marche l'alluvione in Emilia-Romagna l'anno scorso i disastri come la tempesta Vaia o quello che succede l'alluvione in Libia l'alluvione in Libia esattamente una cosa che si vedevano addirittura le inondazioni dallo spazio dei satelliti Copernicus dell'Esa una cosa che era incredibile vedi proprio le macchie d'acqua nel deserto e adesso quello che è successo appunto nel nord ovest con l'alluvione Lampo sulle montagne del Torinese tra Torino, Torinese e Valle d'Aosta ora chiaramente non si può collegare ogni singolo evento estremo ai cambiamenti climatici sarebbe troppo facile ed è infatti troppo sbagliato bisogna inserire questi eventi in un trend più di lungo respiro esattamente come le temperature se dopo 11 mesi record di fila c'è il dodicesimo mese record questo anche il dato singolo preso e inserito in questo trend fitta perfettamente in quello che sta succedendo ma se dopo 12 mesi record uno non è più record perché poi capiterà gli ultimi 12 mesi sono stati i 12 mesi più caldi registrati probabilmente luglio farà cessare questo record perché non sarà più il luglio più caldo ma questo non vuol dire che smette il riscaldamento globale e so già che succederà so già che succederà questa cosa bisognerà lottare per dire non vuol dire che se dopo 12 mesi record di fila uno non è più record perché poi il record dovrà cessare non vuol dire che il riscaldamento globale è finito ma le cose vanno inserite in un trend se c'è un giorno freddo e 30 caldi il giorno freddo non fa sparire il trend è un caso isolato ma se di nuovo dopo 30 giorni caldi c'è un 31esimo caldo questo sì che si inserisce nel trend e poi voglio dire se fai un paragone con qualcosa che magari le persone sono se guardi gli indici di borsa dalla crisi del 2008 oggi sono sempre saliti ma non significa che ogni singolo giorno siano saliti è chiaro che hai avuto dei giorni dove il Nasdaq è andato giù di un mezzo punto e avrei avuto più o meno metà dei giorni in cui salivano e più o meno metà dei giorni in cui scendevano ma quando sale sale di 0,7 quando scende scende di 0,4 e oggi rispetto al 2008 è cresciuto di parecchio è proprio un discorso che le persone in teoria dovrebbero non è impossibile da capire però il famoso cherry picking che usano i negazionisti per prendere solo i giorni ad esempio in cui la borsa è al ribasso per dire siamo in una crisi economica cosa che non è vero perché poi guardi il trend globale che quello che conta è la borsa nel corso degli anni ha continuato a crescere esattamente come per le temperature esattamente come per gli eventi estremi ci saranno i singoli giorni in cui in una determinata località farà più freddo ma a livello globale non vuol dire che fa più freddo sono cose completamente diverse quindi quello che è successo in questi anni soprattutto in quest'ultimo anno in cui abbiamo battuto letteralmente ogni record di temperatura dell'aria ogni record di temperatura dei mari esattamente questo questo record prima o poi finirà e probabilmente cesserà già a luglio ma non vuol dire che i prossimi anni saranno più freddi perché c'è un'inversione del riscaldamento globale la curva dell'aumento delle temperature come hai detto tu è così però continua a salire oscillando ma continua a salire però ci sono le oscillazioni a cosa sono dovute le oscillazioni a fenomeni questi sì naturali quest'anno c'è stato questo fenomeno di El Nigno El Nigno è un fenomeno che comporta un riscaldamento delle acque superficiali dell'oceano pacifico orientale davanti alle coste di Peruicide sostanzialmente questo riscaldamento anomalo contribuisce ad aumentare la temperatura dell'aria acqua e atmosfera sono due entità a contatto quindi il calore presente nell'acqua può passare poi in atmosfera quindi quando ci sono fenomeni come questo di El Nigno la temperatura globale tende ad essere un po' più alta ora qual è il punto che questo fenomeno di El Nigno questo riscaldamento che ha comportato questo riscaldamento anomalo del pacifico orientale non è stato così intenso quest'anno o meglio non è stato così intenso da spiegare le temperature la straordinaria serie di record di temperature che abbiamo avuto per 12 mesi di fila questo se vogliamo un altro segnale preoccupante del riscaldamento globale perché stiamo iniziando ad avere record quando nemmeno più i fenomeni naturali che possono diciamo contribuire a questi record sono così intensi non sappiamo ancora esattamente tutte le dinamiche atmosferiche ma questo non vuol dire che non siamo sicuri che sia la causa antropica generare tutto tutto questo quindi chiaramente un anno in cui tutte le temperature sono fuori scala dell'area degli oceani è chiaro aspettarsi fenomeni come l'uragano veril categoria 5 a inizio luglio una cosa mai successa o fenomeni estremi ed estremamente violenti al principio dell'estate perché di nuovo sono fenomeni più tipici se vogliamo di fine estate inizio attunno in cui c'è un elevato contrasto tra le temperature dei mari e quelle dell'atmosfera quindi cosa dire tutto questo è spiegabile come detto tramite riscalamento globale di origine antropica gran parte dei fenomeni estremi si possono inserire in questo trend come detto non tutti perché non è un'equazione lineare immediata però è un concetto statistico che le persone evidentemente fanno fatica perché poi ogni volta che c'è un evento estremo ogni volta tu apri twitter e trovi il complottista di turno la verità che ti dicono ah c'era stato lo stesso evento uguale nel 1936 e poi c'è un altro la settimana dopo e dice ma ce n'era stato un freddo uguale nel 1400 salcazzo e poi c'è caldo e fa ma c'era stato caldo uguale nel 1812 e non ti rendi conto che se ce n'è stato uno per secolo prima adesso sono tutti e tre record lo stesso anno forse qualche problema c'è però ogni volta voglio mostrare che le persone si siano dimenticate della settimana prima no sì sì certo un grafico vediamo se lo trovo se mi mostra l'anteprima così giusto per intanto l'altra cosa che volevo spiegare magari perché per il pubblico non è ovvia è che il calore diciamo in eccesso che il nostro pianeta accumula al fatto a causa del fatto che la forzante che l'albedo diciamo è modificata dalla CO2 quindi la CO2 modifica l'albedo atmosferica passa più luce solare rispetto a quella che viene riflessa più del solito questa luce porta con sé dell'energia che scalda il pianeta ecco la grossa parte di questa energia in eccesso finisce nei mari per un semplice fatto di capacità termica cioè la capacità termica dell'acqua parte il fatto che l'acqua ricopre due terzi della superficie terrestre la capacità termica dell'acqua è molto maggiore della capacità termica dell'aria quindi per un 97 98% del calore in eccesso finisce nei mari quindi se le temperature atmosferiche non cambiano particolarmente nel corso dei decenni è perché cambiano quelle marine esattamente tra l'altro questa è una cosa che tra l'altro possiamo verificare tutti perché prendete un palloncino gonfiatelo d'aria e lo stesso palloncino gli mettete l'acqua dentro provate a scaldarli a mettere una fiamma sotto vedete cosa succede da lì capite quanto l'acqua riesce a magazzinare calore più dell'aria un esperimentino semplice ma che è molto utile per capire queste cose intanto volevo prendere allora vediamo tu stai a Torino no? allora vediamo se è un grafico per Torino così siamo proprio coerenti con eccolo qua oh perfetto allora te lo condivido allora condividi schermo così parlando davanti a un grafico molto semplice si può ragionare meglio share ok te l'ho messo sì sì aspetta che mi ingrandisco e qua si vede no? sì 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 si vede perfettamente allora sono solo io o è andato giù Matteo mi sa che è andato giù Matteo ok adesso ritorna sicuramente che è successo ti sei frizzato ti sei frizzato quindi puoi ripetere sì 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 ti sei frizzato 20 secondi ok queste sono le la distribuzione delle temperature notturne va bene qua vedete la distribuzione delle temperature a Torino negli anni 60 come vedete è una curva molto simmetrica una distribuzione molto regolare non ci sono anomalie particolari ok quello che è successo negli ultimi dieci anni è stato che questa curva si è leggermente spostata a destra ma anche cambiato un po' forma questo si è tradotto in una cosa molto importante che quelle che prima erano temperature quasi inesistenti perché erano fuori dalla curva cioè molto più calde del solito ora come vedete rientrano nella curva e sono aumentate quindi questo spostamento della curva della distribuzione delle temperature ha fatto sì che venissero incluse temperature molto più calde del solito mentre invece che diminuissero non della stessa misura ma leggermente quelle più fresche del solito quindi come vedete questa è una cosa importante che si può verificare anche nelle temperature in generale del pianeta non solo nel caso specifico di Torino non abbiamo i grafici per tutte le città d'Italia sono tutti così quindi voglio dire non è solo un caso particolare quello che è importante capire è che gli eventi più freschi del solito non sono scomparsi quindi il fatto che ci possano essere magari dei mesi un po' più freddi anche a livello globale o dei periodi più freddi a livello locale come in Italia o addirittura anche in Europa non va contro quello che è il riscaldamento del pianeta perché gli eventi più freschi come questi non sono spariti sono diminuiti leggermente quello che è cambiato è che sono aumentati drasticamente gli eventi legati a temperature molto più alte del solito temperature che prima magari non apparivano erano estremamente rare adesso non sono così rare quindi questo è il punto da capire quando si parla di temperature ci sono eventi molto più frequenti legati a caldo e leggermente meno frequenti legati al freddo che non sono scomparsi ci sono e ci saranno questa è una cosa importante da capire quando si parla appunto di temperature ed è la cosa migliore da dire quando ci sono i complottisti che prendono il maggio un po' più fresco del solito in Italia e dicono il riscaldamento globale non esiste no perché il riscaldamento globale la teoria e i dati non escludono che si possa verificare quel maggio più fresco del solito perché ce lo dicono i dati ce lo dice la teoria del riscaldamento globale è tutto quello che è legato al cambiamento climatico antropico ma poi adesso voglio dire senza entrare più perché poi io non sto fisica del clima l'ho malapena fatta ma anzi non l'ho proprio fatto ho fatto un esamino di fisica dell'atmosfera ma erano tipo sei crediti che erano obbligatori ma no la cosa che cioè la termodinamica no continua a esistere per cui se cioè noi in questo momento abbiamo i ghiacci artici che si stanno sciogliendo allora quando il ghiaccio si scioglie c'è una roba che si chiama calore latente diffusione vuol dire che il ghiaccio assorbe calore dall'atmosfera e si scioglie questo succede tutti gli anni se c'è più calore in atmosfera il ghiaccio ne assorbe di più e si scioglie di più ma quel calore resta sottratto all'atmosfera quindi è normale che se si scioglie una quantità maggiore di ghiaccio artico poi i venti che arrivano da nord verso l'Italia siano più freddi rispetto a prima perché si è sciolto più ghiaccio assorbito più calore cioè figa è termodinamica questa non è che serve chissà che nozione specialistica tra l'altro a questa cosa che hai detto che è molto importante da dire che è uno di quei feedback tipici legati ai cambiamenti climatici che quando il ghiaccio si fonde scompare c'è meno superficie riflettente quindi meno calore che viene riflesso in atmosfera l'oceano l'acqua marina in generale è molto più scura e quindi tutti noi sappiamo che un oggetto più scuro assorbe più calore di un oggetto più chiaro quindi la fusione dei ghiacci alimenta ulteriormente ulteriore fusione perché il mare si riscalda ancora di più perché è una superficie più scura quindi superficie bianca viene diciamo soppiantata da superficie più scura e questo aumenta ulteriormente le temperature dei mari che aumenta ulteriormente la fusione dei ghiacci sono quei feedback che si autoalimentano a vicenda che sono poi difficili da affermare quindi questa è un'altra delle cose da tenere in considerazione quando si parla di fusione dei ghiacci oltre al fatto che c'è acqua in generale anche un po' più fredda che si riversa nei mari acqua più fredda acqua più dolce e questo crea ulteriori scombussolamenti anche alla circolazione oceanica si parla tanto della corrente del golf eccetera infatti c'era c'era qualcuno che chiedeva se ci dovesse essere si è parlato molto di questa AMOC tanto posso togliere il grafico si scusami vai 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 si è parlato molto della AMOC che è Antarctic Meridional Oceanic Circulation che è una corrente che come dire gira così nel sud dell'Atlantico e che alimenta non ho ben capito la corrente del golfo insomma se l'AMOC collassa la corrente del golfo ne viene influenzata e questo influenzerà il clima in Europa che cosa potrebbe succedere ci chiedono la corrente del golfo è una parte delle correnti legate a questa a questa circolazione allora in realtà ci sono ancora degli studi in corso sulle conseguenze però chiaramente in realtà negli ultimi anni ci sono state tante discussioni anche notizie date in modo sbagliato sensazionalistico sul fatto che la corrente del golfo stesse in qualche modo rallentando o cose di questo tipo in realtà ci sono lavori che sembrano mostrare il fatto che la corrente del golfo si sia un po' abbassata di latitudine a causa della fusione ad esempio dei ghiacci che come detto introducono acqua più fresca e più dolce negli oceani che sono più caldi e più salati quindi questo chiaramente interferisce sulla circolazione oceanica e in quel caso il rischio è proprio di diciamo non troncare però disturbare di netto quella che è la corrente del golfo che dal golfo del messico si sposta verso le latitudini nord nord europee quindi è difficile dire che cosa potrebbe comportare una cosa di questo tipo chiaramente gran parte delle latitudini nord europee almeno le coste affacciate sul lato occidentale sono influenzate dalla corrente del golfo con temperature per la latitudine a cui si trovano determinate regioni molto miti quindi molte delle zone di coste come ad esempio quelle della della Norvegia hanno un clima decisamente mite per quanto sono a nord proprio grazie all'influenza della corrente del golfo che porta acqua molto più molto più tiepida quindi chiaramente già un abbassamento un cambiamento di velocità della corrente del golfo può causare cambiamenti a livello di circolazione oceanica prima di tutto ma poi atmosferica essendo molto collegate le due cose a livello europeo quindi difficile dire cosa questo potrebbe comportare perché avremo ad esempio mari più freddi quindi potrebbero esserci incursioni di aria artica magari con più facilità verso le zone centro europee l'Italia si trova molto a sud e molto lontano dall'influenza della corrente dell'influenza diretta della corrente del golfo quindi è difficile da dire non ci sono se vogliamo certezze in questo senso diciamo che potrebbero esserci in qualche modo più più irruzioni artiche magari senza senza la presenza della corrente del golfo che mitiga che mitiga le acque in qualche modo agisce un po' da freno all'aria artica che giunge almeno da quella parte del polo nord perché poi ci sono gran parte delle discese artiche che arrivano direttamente dalla Scandinavia o dalla Russia quindi in quel caso lì si parla di cose di cose diverse però l'Italia si trova molto a sud e molto lontana dalle zone oceaniche quindi non è così semplice studiarne gli effetti No, ma infatti avevo sentito parlare di possibili conseguenze pesanti in Inghilterra infatti Sì, esattamente si parla proprio più delle latitudini più nord europee più direttamente a contatto con le zone oceaniche quindi in quei casi là si potrebbero avere cambiamenti anche abbastanza rapidi da quel punto di vista noi siamo appunto forse anche per fortuna un po' più riparati un po' più isolati in questo senso E invece ecco diciamo queste sono alcune delle tematiche che in queste settimane hanno dominato il discorso tra i complottisti ma l'altro grosso diciamo l'altra grossa cosa a cui si sono attaccati è stato questo fenomeno della sabbia rossa che è diciamo piovuta non so se il termine è corretto è stata portata è piovuto di fatto sabbia rossa nel nord ovest almeno sicuramente nel nord ovest forse anche in altre parti d'Italia e sono impazziti tutti cioè questo è il veleno le scie chimiche il la geoingegneria il cloud seeding harp tutte ste cose qua puoi spiegarci un attimino che cos'era sta sabbia rossa cos'è stato dovuto questo fenomeno sì allora volevo anche mostrare un'immagine satellitare che noi abbiamo anche pubblicato in pagina in cui si vedeva in maniera in maniera molto evidente proprio l'arrivo della l'arrivo della della sabbia rossa quindi devo un attimino eventualmente ripescarla però sì allora sì devo ricordarmi dove caspita l'abbiamo aspettacelo se no ripesco direttamente il come dire il il satellite che è disponibile se voi andate su world view della nasa ci sono le immagini satellitare praticamente di ogni giorno e lì si vedono in maniera chiara però vabbè ce l'ho qua quindi te la condivido così parliamo con qualcosa di concreto sotto mano e in realtà è un fenomeno molto tipico molto tipico non solo dell'estate ma tante volte anche dell'inverno tant'è che abbiamo avuto nevicate rosse sulle alpi anche a gennaio febbraio insomma è condiviso un'immagine questa è di qualche giorno fa in cui si vede proprio questa nuvola di polvere in arrivo dal Sahara verso le nostre regioni centro settentrionali questo succede molto spesso quando quando c'è una depressione molto profonda che scende diciamo in direzione del Marocco l'atmosfera è come un palloncino se tu la schiacci da una parte si gonfia al centro no? e questo è esattamente quello che succede quando c'è questa bolla di bassa pressione che si fionda verso le coste dell'Africa la risposta è che una bolla di alta pressione risale dal centro del Sahara verso le nostre regioni portando con sé venti che sollevano la polvere letteralmente del Sahara stiamo parlando di particelle minuscole non la classica sabbia quindi quando si parla di sabbia è sbagliato si parla di polvere sono così piccole queste particelle che vengono facilmente portate fino a 3, 4, 5 chilometri di altitudine e poi con i venti che si spingono verso l'Europa centrale appunto questa polvere arriva anche da noi un fenomeno in realtà molto consueto dalla notte dei tempi però chiaramente con un maggiore numero di risalite dell'anticiclone africano può essere un fenomeno un po' più presente rispetto al solito non abbiamo in realtà delle statistiche per dire questo in questo periodo abbiamo avuto diverse incursioni di polvere sahariana però è un fenomeno che è sempre successo dinamiche atmosferiche l'unica volta che davvero è sempre successo invece è un complotto sì ecco è ragione al contrario però è una cosa di dinamica atmosferica normalissima fisica di base che ti spiega quello che succede questa sabbia rimane in sospensione in atmosfera quello che succede è che poi alla prima perturbazione quando piove la pioggia porta con sé verso il suolo questa polvere presente in atmosfera o neve questo è successo quest'inverno quando abbiamo avuto nevicate che hanno colorato di rosso la neve delle nostre alti un fenomeno che tra l'altro può causare una maggiore fusione perché il colore della neve diventa più scuro assorbe più calore ma a parte questo e quindi nelle zone di pianura dove pioveva è piovuto sabbia è piovuto polvere rossa quindi ci sono trovati le macchine coperte di rosso ora questa polvere è un residuo dell'erosione della crosta terrestre la crosta terrestre ha dentro di sé dei minerali come ad esempio il ferro la crosta terrestre è piena di ferro o derivati del ferro come elementi ferromagnetici quindi generalmente quando è di quel colore lì è ferro ossidato cioè è di ossido di ferro è proprio la cosa la cosa più vecchia del mondo ferro arrugginito in natura si trova di quel colore lì non lo trovi di un altro colore se vuoi fare l'acciaio devi separare l'ossigeno ed è un processo tra l'altro lo fai col carbonio facendo CO2 perché ci sono poche alternative per cui sono presenti anche elementi come le matite che è esattamente ad esempio quella che colora di rosso la superficie di Marte e la superficie di Marte è ricchissima di ossido di ferro quindi i processi fisici non ci sono di questo tipo non ci sono solo sulla Terra ma ci sono anche su altri pianeti quindi è normale che quando metti una calamita sulla sabbia la calamita attiri delle particelle di sabbia perché è presente ferro sono presenti elementi ferromagnetici come la magnetite e quindi vengono attirati da un magnete ma è perché il nostro pianeta è fatto così abbiamo ferro nella crossa terrestre quando la crossa terrestre viene erosa i residui dell'erosione come ad esempio la polvere conterranno a loro volta ferro o elementi ferromagnetici quindi con la calamitina vediamo la sabbia che viene attratta da un fenomeno totalmente assolutamente naturale basta conoscere come è fatto il nostro pianeta la composizione chimica del nostro pianeta cioè il ferro esiste dentro il nostro pianeta portato dalle supernove esplose chissà dove non è nulla di strano è la natura che spiega l'arrivo del ferro sulla terra fin dalle esplosioni delle stelle che hanno espulso nell'universo il ferro che avevano nel loro interno e che poi è andato a comporre pianeti come il nostro allora io sono andato due anni fa in vacanza in Peru e una delle cose che ho visitato è la Vignicunca la montagna dei sette colori che è famosa meravigliosa perché l'erosione ha lasciato scoperto questo fianco dove si vedono tutti gli strati sedimentari colorati di colore diverso e la prima cosa che ti dice la guida è che quelli rossi sono ferro non è una cosa che non si è mai vista ma non solo visto che mi occupo di energia è che l'acciaio è uno dei più grossi problemi energetici che esistano cioè se l'acciaio fosse un paese sarebbe il secondo paese al mondo per emissioni dopo la Cina davanti agli Stati Uniti se l'acciaio fosse un paese e perché perché il ferro in natura è ossidato e se tu vuoi fare vuoi avere il ferro senza l'ossigeno devi separare l'ossigeno e il modo più economico che c'è è farlo legare al carbonio alla temperatura giusta il carbonio si lega all'ossigeno se lo porta via sotto forma di CO2 e ti lascia lì il ferro metallico l'unico processo alternativo sarebbe invece di usare il carbonio usi l'idrogeno l'idrogeno si attacca all'ossigeno se lo porta via sotto forma di vapore acqueo e ti resta il ferro il problema è che l'idrogeno costa molto di più dei combustibili fossili e quindi oggi la produzione di acciaio è altamente carbon intensive quindi oddio aspetta abbiamo l'eroe in chat che è tornato abbiamo un complottista l'ho già bannato una volta ma mi sa che è tornato ah no ok no 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 niente l'ho bannato pensavo fosse tornato ma in realtà vedo che ci sono tipo i messaggi nascosti da un utente bloccato devo capire come si banna del tutto c'è l'opzione su streamer in realtà sui tre puntini sull'utente te lo banna però ah ok non ce l'ho l'opzione su streamer non so perché strano tra l'altro visto che parlava di cloud seeding quindi magari si può anche parlare di questo famoso cloud seeding e spiegare un po' cos'è visto che ai noi anche al tg5 l'altro giorno hanno fatto disinformazione in cui dicevano che eventi di cloud seeding in california hanno prodotto i temporali nel torinese cioè cose da mettersi le mani nei capelli e piangere piangere tantissimo disperati vabbè quindi quindi dici spiegaci pure sì allora a volte si è associato in questi giorni questa pioggia di sabbia di polvere sariana anche a cloud seeding che cos'è il cloud seeding il cloud seeding è una pratica documentata e scientificamente vera quindi non è assolutamente un complotto è una cosa vera che però non ha nulla che vedere con le scie di condensa degli aerei perché è una pratica che non produce scie di condensa che cosa consiste consiste nel inseminare letteralmente delle nuvole già esistenti che già contengono del vapore acqua al loro interno con elementi come l'olio duro d'argento perché che cosa serve queste particelle di ioduro d'argento fungono da nucleo di condensazione per attirare a sé le molecole d'acqua e per formare in questo caso artificialmente delle gocce d'acqua che poi precipitano al suolo una volta che raggiungono una determinata dimensione una pratica che è normalissima cioè la pioggia si forma così la nebbia si forma così la nebbia si forma come ci sono c'è polvere in atmosfera dovuta all'inquinamento quello che è e l'umidità dell'aria si condensa attorno a queste particelle di polvere formando gocce di vapore acqua che rimangono in sospensione e formano la nebbia la stessa cosa succede con la pioggia quando la goccia diventa pesante cade al suolo il club seeding è una pratica per stimolare la nuvola a creare a creare più in fretta queste gocce d'acqua questo permette di stimolare la pioggia nelle nuvole magari un po' prima rispetto a quello che avrebbero fatto naturalmente le nuvole questo permette ad esempio di far piovere magari qua e non 20 chilometri più in là per esigenze perché magari qua abbiamo delle coltivazioni o quello che è mi ricordo che l'avevano usato in Cina per far nevicare quando c'erano state le olimpiadi invernali l'avevano usato in Cina e lo usano diciamo in maniera abbastanza frequente in zone come gli Emirati Arabi zone di Dubai Abu Dhabi e quelle zone lì proprio per stimolare la pioggia se ne è parlato tanto qualche mese fa quando c'era stata un'inondazione a Dubai mi pare qual è il punto? K-Cloud seeding è una pratica documentata da decenni ma la cui efficienza è tuttora in fase di dibattito perché sembra che abbia una minima efficacia in alcune zone dove questa pratica è sperimentata da molto più tempo ma appunto a livello molto locale ci sono degli studi che mostrano come ad esempio nelle zone di Dubai o in alcune zone della Cina questa pratica abbia aumentato in alcuni casi le precipitazioni del 10-15% quindi un po' di più e in zone leggermente diverse rispetto a quelle dove la pioggia sarebbe caduta in maniera naturale quindi il cloud seeding è una pratica vera serve per far stimolare la pioggia in alcune nuvole ma le nuvole devono già esserci non vengono create da nulla dal cloud seeding ci sono già e sono nuvole che prima o poi avrebbero comunque fatto cadere l'acqua che hanno al loro interno semplicemente noi le stimoliamo per far piovere magari qui e non lì questa è una pratica documentata ma ha effetti molto limitati come detto in alcuni casi della precipitazione tra il 10-15% e molto locali non funziona per stimolare la pioggia in un uragano o in una perturbazione su un'area molto estesa lo si usa per nuvole quasi singole e molto molto localizzate fine tutto qua però non ha alcuna commissione è una pratica che ha anche un certo costo perché tanto lo iuduro d'argento devi buttare una certa quantità e poi devi fare un volo aereo ogni volta nel senso io voglio un volo assolutamente lo si fa quando o ci sono appunto le olimpiadi c'è un evento che costa miliardi e devi fare in modo che venga oppure se come dicevi tu vuoi far scaricare le nuvole prima che possano farti una grandinata che ti distrugge centinaia di milioni di coltivazioni esattamente questo è importante per il gusto questo è importante perché tante volte il cloud seeding è stato associato anche a grandinate devastanti come quelle successe in Piemonte in realtà il cloud seeding è un qualcosa che cerca anche di inibire la presenza di chicchi grandi di grandine questo perché perché aumenti il numero dei nuclei di condensazione quindi anche la grandine che si forma si forma in maggior numero ma con chicchi molto più piccoli quindi il cloud seeding è un qualcosa che proprio inibisce le grandinate devastanti quelle con i chicchi grossi come delle palle da tennis quindi è anche associato spesso a delle cose che non può causare il cloud seeding è una cosa questa è importante anche da capire perché spesso appunto viene associato a qualsiasi cosa anche al pioggia di sabbia non c'entra niente lo ioduro d'argento tra l'altro è una cosa inodore invisibile non è nemmeno sì chiaramente se ce lo beviamo un bicchiere di odore d'argento è tossico ma se tutta quella sabbia fosse che contenesse argento saremmo tutti ricchi figa madonna sì assolutamente sì e con tutti va lì con la pala porca puttana poi li porta dal comproro e anche se te la valuta poco se è tutto argento è tutto piovuto cioè è gratis esattamente per cui quindi il cloud seeding non c'entra oltretutto il cloud seeding non è prodotto da aerei di linea ma ci sono aerei specifici che non lasciano scie non volano alle altitudini in Italia anche per cui possono lasciare scie eccetera quindi è un fenomeno completamente differente documentato la cui efficacia è tuttora in fase di dibattito punto e basta di sicuro non può causare quello che ha detto sbagliando il TG5 l'altro giorno che si diceva che il cloud seeding in California va a prodotti temporali da noi assolutamente è una cosa folle oltre ad avere effetti estremamente locali non ti porta le nuvole a fare 15.000 km 10.000 km da una parte all'altra del mondo quindi non c'entra assolutamente niente è l'effetto farfalla del cloud seeding se un cloud seeding batte le ali in California c'è un temporale a Torino tra l'altro poi i complottisti fanno un'enorme confusione tra il cloud seeding che è una cosa che esiste e il solar radiation management che è una cosa che ad oggi non esiste è un ambito di ricerca per il quale non si sono ancora un ambito di ricerca sul quale c'è talmente tanta paranoia che si fa fatica proprio ad ottenere le autorizzazioni per farle queste ricerche cioè è una di quelle cose che finiranno come il nucleare e gli OGM potrebbero salvarci tutti ma non lo usiamo perché abbiamo paura uno che fa ricerca in questo campo è Daniele Visioni è stato ospite di questo assolutamente si ha fatto anche dei post su questo collabora con Matteo ed è stato nostro ospite in passato è un bravissima persona ultracompetente lui fa ricerca proprio su questo e ogni volta deve fare la guerra ma non per modificare il clima magari fossimo arrivati per ottenere i fondi per fare una ricerca puramente teorica dove dimostrare che forse facendo quella roba lì tra vent'anni si potrebbe già lì partono quelle delle scie chimiche sì è vero tra l'altro è quella che effettivamente ufficialmente viene chiamata geoingegneria che molto spesso anzi sempre è associata in maniera del tutto erronea alle scie di condensa degli aerei quella che fa appunto da nelle visioni che sono questi progetti di di roscurare il sole mi sembra troppo complottista però di diciamo di l'albedo terrestre utilizzando a livello atmosferico sì esattamente che è quello che facciamo da anni con la CO2 involontariamente si tratterebbe di farlo in maniera volontaria con gli aerosol anche con gli aerosol con degli aerosol che come dire rispetto alla CO2 hanno un potere riflettente molto maggiore in modo che tu debba usare quantità molto minori perché la CO2 abbiamo messo in atmosfera quanti due o tre trilioni di tonnellate quindi si tratta di usare dei gas per cui ogni chilogrammo di questo gas annulla l'effetto di milioni di tonnellate di CO2 e in questo modo come dire riportare l'albedo terrestre a un livello bilanciato qua chiedono come si fa stabilire sono comunque pratiche che vogliamo si possono definire se vogliamo palliative sono soluzioni che ci aiuteranno a guadagnare del tempo la soluzione definitiva al riscaldamento globale questo è importante da dire chiarissimo che nessuno ha mai proposto di oscurare il sole come soluzione al riscaldamento globale sembra la trama di Matrix questa qua chiedono come si fa a stabilire il corretto far piovere qua anzi che là se sai che rischi una grandinata che ti può distruggere 30 milioni di euro di coltivazioni la fai scaricare prima che arrivi su 30 milioni di euro di coltivazioni tendenzialmente e invece qua chiedono se vedremmo il cielo più bianco con gli aerosol no non vedresti il cielo più bianco non è che fanno un tappeto di aerosol quindi non succederebbe questo però questa è una domanda che può essere interessante associata in questo caso sia alle scie di condensa degli aerei perché ci sono dei lavori che mostrano eventualmente l'impatto che possono avere le scie di condensa ad esempio sulla temperatura effettivamente sono nuvole alla fine a tutti gli effetti stimolate dai motori dagli scarichi degli aerei che creano queste scie che limitano un po' la radiazione solare ma è difficile stabilire quale sia l'effettivo ci sono dei lavori comunque scientifici quindi questi disponibili liberamente che cercano di stimare l'impatto sulle temperature delle scie di condensa degli aerei non è semplice perché se da un lato riflettono comunque la radiazione dall'altro gli aerei comunque producono CO2 quindi bisogna separare i due effetti della presenza esclusiva delle scie quindi queste nubi stimolate dagli aerei rispetto a quelli che sono poi i composti di scarico degli aerei come ad esempio la indire carbonica tanto io metto in evidenza i commenti più carini è vero aggiungo il fatto che qualcuno l'ha chiesto prima effettivamente ci sono alcuni gas inquinanti che producono un effetto anticlimalterante nel senso che come la CO2 diminuisce l'albedo quindi favorisce l'assorbimento dei raggi solari ci sono dei gas che favoriscono la riflessione dei raggi solari ma che sono gas inquinanti non climalteranti inquinanti nel senso di tossici per la salute umana e con la messa fuori legge di questi composti credo che alcuni composti a base di zolfo nelle miscele dei carburanti delle navi siano stati messi fuori legge effettivamente abbiamo diminuito la produzione di questi gas e quindi abbiamo peggiorato il riscaldamento globale però come dire c'è anche la nostra salute da tutelare quindi evidentemente non è che possiamo come dire contenere il riscaldamento globale immettendo in atmosfera della roba che poi ci ammazza quindi è evidente che era giusto mettere fuori legge limitare l'utilizzo di questi composti tossici per la salute umana e allo stesso tempo bisogna ridurre il riscaldamento globale agendo prima di tutto sulle emissioni poi è chiaro che ci vorranno anche altro ci vorrà forse il solar radiation management ci vorrà anche le emissioni negative la cattura della CO2 a un certo punto tra l'altro quello che hai detto è assolutamente vero è uno degli ultimi lavori proprio di Daniele Visioni volto a spiegare l'anumalia di quest'anno cioè quello che ho detto prima abbiamo avuto temperature per 12 mesi record con un fenomeno di El Nigno che però non era così intenso abbiamo avuto molti più intensi quindi come spieghiamo questo anomalo aumento di temperature oltre El Nigno che ha dato un piccolo contributo ma non lo spiega del tutto una delle cose è proprio questo cambiamento nella composizione degli aerosol ad esempio in atmosfera quindi meno riflessione della luce quindi però più calore che viene immesso dentro il sistema atmosferico questa potrebbe essere una delle spiegazioni non l'unica ci sono dei lavori proprio in questo senso però per rispondere alla domanda che hanno fatto noi non lo vediamo questo aerosol no no stiamo stiamo a livello di molecole per cui non è niente di visibile ad occhio nudo e però invece i fotoni che arrivano dal sole li vedono eccome assolutamente non è roba non è roba visibile quindi non è appunto lo schermo di Bill Gates che ha qui ogni tanto il compare sui social per cui ecco non so se c'era una domanda avevano vista una ma l'ho persa stavo guardando stavo guardando purtroppo è arrivato il complottista a un certo punto e quindi ha un attimo monopolizzato la chat per cui sto risalendo c'è una domanda di Antonio che chiede se non sbaglio anche la sabbia anibisce la formazione temporale di forte intensità questa è una bella domanda non so se ci siano studi in questo senso però diciamo che la sabbia agisce in qualche modo se vogliamo come lo ioduro d'argento cioè sono nuclei di condensazione che vengono introdotti all'interno delle nuvole quindi se vogliamo posso ipotizzare un effetto simile maggiore facilità di pioggia proprio perché ci sono maggiori nuclei di condensazione e minore presenza di grandinate probabilmente devastanti però questa è una domanda interessante non ho idea onestamente se ci siano lavori scientifici che associino la presenza di polvere sariana a un cambio di pattern e di intensità delle precipitazioni siano esse sotto forma di acqua o di ghiaccio questo non onestamente è un'ipotesi mia e invece qua c'era tallesimo che non è propriamente una domanda però tu all'inizio della live hai parlato di fenomeni di feedback e questo è uno dei più preoccupanti perché la fusione del permaforo cioè il permaforo scontiene intrappolate a quanto pare grandi quantità di metano che ha un potere clima alterante 30 volte peggiore della CO2 per cui la vera domanda è se questo fenomeno è già in corso e si autoalimenta siamo tutti del culo o c'è un incusato Allora come detto tu il problema del metano è che è molto ma molto più potente come gas serra rispetto all'anidride carbonica la nostra fortuna è che è presente in quantità molto minori infatti la concentrazione di anidride carbonica si misura in parti per milione attualmente siamo a 426 parti per milione sostanzialmente cosa vuol dire che prendiamo un milione di molecole di atmosfera 426 sono di anidride carbonica pensate questa infinitesima percentuale contribuisce ad aumentare così tanto le temperature il metano si misura in parti per miliardo quindi vuol dire che prendiamo un miliardo di molecole di atmosfera 200 adesso mi ricordo esattamente quanto sia sono di metano quindi abbiamo c'è l'ordine di grandezza diverso quindi questa è la nostra fortuna però aumentare pesantemente il metano in atmosfera è estremamente rischioso e la fusione del permafrost è un pericolo perché contiene come hai detto giustamente tu enormi quantità di metano intrappolate all'interno il permafrost sostanzialmente è questo piccolo sottile strato ghiacciato delle zone diciamo polari siberiane insomma delle zone che ci avvicinano al polo nord e lì dentro c'è tantissimo permafrost il fatto che il permafrost si fonda libera in atmosfera parte del metano contenuto l'atmosfera ovviamente essendo il metano un potentissimo gas serra si riscalda questo riscaldamento fonda ulteriore permafrost che libera ulteriore metano in questo effetto di circolo vizioso è difficile dire se adesso siamo già in una fase di feedback positivo in questo senso però ci sono alcune indicazioni che potrebbero andare in questa direzione ma non abbiamo la certezza per ora che questo sia già un fenomeno davvero in atto e davvero inarrestabile ma se dovesse succedere potrebbe essere uno di quei fenomeni difficilmente reversibili molto difficilmente reversibili quindi bisogna stare attento e ci sono già monitoraggi scientifici proprio in atto del permafrost sostanzialmente qua chiedono se l'idea degli aerosol è ispirata dallo studio delle influenze che hanno avuto in passato sul clima l'esplosione di grandi vulcani i vulcani sono generalmente associati a una diminuzione di temperatura se noi guardiamo il grafico delle temperature globali nel corso ad esempio degli ultimi 150 anni si vede che ci sono alcuni picchi molto negativi che sono stati associati a violente esplosioni vulcaniche come quella del Krakatoa o la celebre esplosione del Pinatubo che hanno contribuito a diminuire la temperatura globale proprio a causa della cener degli aerosol delle sostanze messe in atmosfera che hanno in parte schermato la radiazione solare quindi il fatto che siano ispirati dalla presenza dei vulcani non lo saprei però sicuramente abbiamo un ottimo banco di studio e una grande quantità di dati sull'effetto degli aerosol sulla temperatura globale grazie anche alle eruzioni dei vulcani che abbiamo soprattutto quella degli ultimi 60 anni documentato in maniera molto molto importante e i picchi di diminuzione delle temperature sono lì tant'è che la famosa piccola era glaciale che molto spesso associata a una minore attività solare anche dei complottisti per far vedere come il sole guidi completamente anche i cambiamenti climatici in realtà sembra essere stata più guidata da un aumento notevole delle eruzioni su scala planetaria che hanno contribuito in maniera anche più importante dell'attività solare ad abbassare le temperature globali quindi è un ottimo banco di prova per sperimentare gli effetti della presenza in atmosfera di aerosol o di particelle che schermano la radiazione solare sì tra l'altro una delle cose che rendono le teorie complottiste sul global warming della fuffa è il fatto che manca sempre la spiegazione alternativa cioè ok la CO2 non causa il cambiamento climatico quindi qual è la causa del cambiamento climatico mi vorrai fornire un'altra spazzante perca miseria ecco manca sempre un po' questa ti dicono è un ciclo naturale causato da cosa cioè i cicli naturali ma anche perché allora negli ultimi cento anni abbiamo aumentato dalla CO2 da 280 a parti per milione a 426 abbiamo aumentato le temperature globali di un grado e 6 ormai siamo arrivati rispetto all'era per industriale ora non è l'uomo va bene facciamo finta che i dati che abbiamo sull'emissione antropiche siano totalmente sbagliati ditemi qual è il fenomeno naturale così incredibilmente macroscopico in grado di aumentare da un lato l'anide carbonica di così tanto in così poco tempo e dall'altro di aumentare le temperature così tanto in così poco tempo qualcosa che non abbiamo mai visto nella storia recente del nostro pianeta e dell'essere umano deve esserci un fenomeno naturale così incredibilmente evidente che o siamo stati stupidi finora a non accorgercene o abbiamo i nostri sensi che non sono in grado di percepire questa cosa qua o abbiamo sbagliato completamente le nostre comprensioni non solo della fisica dell'atmosfera ma della fisica di base cioè deve esserci qualcosa di veramente grande non stiamo parlando di un dettaglio di un numerino stiamo parlando di un fenomeno che deve essere così macroscopico che è impossibile che migliaia e migliaia e migliaia di scienziati per decenni non se ne siano accorti è impossibile perché deve essere un fenomeno così gigantesco per provocare quello che stiamo vivendo qualcuno mi spieghi cosa può essere questo fenomeno così incredibilmente grande nessuno l'ha mai fatto qua danno una spiegazione vedata dalla radiazione cosmica alcuni non sto dicendo che sia corretto sto dicendo che alcuni sono scadli sì è vero con molta fatta cioè questa è veramente divertente la radiazione cosmica ragazzi ha un cosa si intende con radiazione cosmica dipende cosa si intende perché c'è in realtà anche un certo fondamento scientifico che si associa alla maggiore o minore presenza di raggi cosmici i raggi cosmici che cosa sono radiazione cosmica ho pensato alla radiazione di fondo e ho detto no vabbè magari magari ci dirà meglio però quello che immagino sia sia questa cosa dei raggi cosmici che possono influire o meno sulla minore o maggiore presenza di nuvole ci sono dei lavori scientifici che associano i raggi cosmici alla maggiore o minore presenza di nuvole che fungono sostanzialmente come sorta di catalizzatore per formare più nuvole i raggi cosmici quindi la maggiore o minore presenza può influire sulla maggiore o minore presenza copertura nuvolosa e quindi di conseguenza le nuvole schermano il sole quindi senza nuvole abbiamo più sole più quindi un aumento della temperatura c'è anche questa teoria da un lato ha dei fondamenti scientifici ma dall'altro non è in grado assolutamente di spiegare l'aumento delle temperature che abbiamo osservato nell'ultimo secolo e mezzo volevo aggiungere una roba di un commento che faccio giustamente la radiazione cioè i raggi cosmici abbiano vissuto chissà che periodo di massimo a partire dagli ultimi 60 anni non mi pare che la terra negli ultimi 60 anni sia stata bombardata da chissà quale attività cosmica che abbiamo avuto una supernova a 10 anni luce che poi i raggi cosmici sono fortemente collegati all'attività solare nel senso che una maggiore attività solare in genere associata a un maggior vento solare il vento solare tende a respingere i raggi cosmici che ci arrivano da tutte le parti dell'universo anche da supernovae lontane da fenomeni lontanissimi sono presenti ovunque nell'universo una maggiore attività solare fa sì che il vento solare sia più forte si propaghi in maniera più lontana e limiti la presenza di raggi cosmici verso il nostro pianeta quindi la presenza di raggi cosmici è associata in qualche modo all'attività solare ecco allora ho 43 anni 10 anni nella scuola elementare sud c'è un articolo del Mediterraneo trovate che in un certo qual modo il cambiamento climatico è rigenerato che è stato diffuso in termini troppo catastrofici per quanto riguarda le tempistiche allora qui si può fare un discorso molto complesso su come bisogna comunicare i cambiamenti climatici è una catastrofe questo è il punto bisogna bisogna prenderne atto e non bisogna usare i mezzi termini non bisogna usare i mezzi termini perché abbiamo pochissimo tempo tempo ne abbiamo per limitare le conseguenze ma è una delle peggiori emergenze a livello planetario che stiamo vivendo che ci troveremo a vivere come specie umana nei prossimi decenni c'è poco da fare c'è poco da fare e le conseguenze le stiamo già vivendo quindi è già tardi per non farci avere non farci vivere le conseguenze dei cambiamenti climatici ma non è tardi per limitarle e non è tardi per prendere ancora delle contromisure per cercare di almeno stabilizzare la situazione già questo sarebbe una gran cosa ma quello che stiamo facendo è avviarci sempre di più verso conseguenze sempre peggiori e una cosa importante da capire è che i cambiamenti climatici e le loro conseguenze non è che hanno un andamento lineare ma hanno una roba così e non sappiamo ancora bene che cosa succederà quando inizieranno ad arrivare conseguenze ancora peggiori questa l'avevo già vista scusa mi è venuto in mente il meme non ho potuto evitare di condividerlo è diciamo molto realista quindi calza calza pennello per cui che dire saranno conseguenze catastrofiche già adesso siamo in un terreno inesplorato l'essere umano l'essere umano magari dopo faccio vedere la cosa delle temperature marine l'essere umano non ha mai vissuto con un'anomalia delle temperature oceaniche grande come quella di quest'anno quindi è letteralmente un mondo un terreno inesplorato noi possiamo avere dei modelli che possano stimare le conseguenze ma poi non siamo così certi che siano come le abbiamo aspettato e si erano ancora peggiori ci sono addirittura tanti modelli del passato che hanno sottostimato l'aumento delle temperature che stiamo vivendo in questo periodo quindi è una catastrofe il rischio di andare davvero incontro a una catastrofe e questo è non bisogna usare mezzi termini perché usare mezzi termini questa è la realtà e c'è poco da fare più che altro perché i modelli climatici cioè la fisica e un fluido e l'atmosfera è un fluido enormemente complesso i fluidi sono già di loro delle cose complesse da descrivere che si descrivono con un sistema di equazioni che si chiamano equazioni Navier-Stokes che hanno se ricordo bene 20 incognite è un sistema di equazioni con 20 incognite se ben ricordo e sono tre equazioni quindi hai 17 gradi di libertà quindi hai un infinito alla diciassettesima di soluzioni ovviamente non sono risolvibili queste equazioni analitiche cioè non c'è una soluzione analitica come si fa è uno dei problemi del millennio quindi come si fa si prende la situazione attuale quindi inseriamo nell'equazione i dati che abbiamo adesso quindi la temperatura il gradiente dei venti che è la velocità nelle varie direzioni il gradiente di pressione l'umidità tutti i dati che servono e poi per capire come andranno le cose in futuro si fa un'assunzione che si chiama sviluppo perturbativo poi Matteo mi correggerà se sbaglio cioè si assume che a partire dal punto di partenza si proceda per piccole oscillazioni e che quindi se queste oscillazioni sono piccole da qui a 20 anni il cambiamento potrà essere al massimo una certa forbice a partire da oggi ma se aumentano le temperature cosa succede è che questa forbice si allarga enormemente quindi magari tra 30 anni stiamo tutti bene magari tra 100 anni stiamo tutti bene oppure siano tutti morti cioè più aumenta le temperature più la forchetta delle possibili conseguenze aumenta non è detto che poi si finiscane per forza nell'estremo peggiore ma non è neanche escluso e non è un rischio che io come specie vorrei correre con tutta questa tranquillità quindi il riscaldamento climatico è un'emergenza poi se vogliamo dire che alcune persone magari in buona fede hanno fatto del catastrofismo inutile quindi invece di rappresentare l'emergenza per come è hanno inventato degli scenari ancora più apocalittici mi viene in mente quello che diceva che avremmo perso le calotte artiche nel 2000 la calotta artica nel 2020 e quell'antartica nel 2030 che non ha detto una cosa scientifica ok ha preso i dati scientifici li ha moltiplicati per cento e ha detto quello che gli pareva e adesso tutti ah ma lui diceva parliamo di Al Gore per capirci ah ma Al Gore diceva anche all'epoca dicevate no diceva Al Gore che non è uno scienziato non rompere il cazzo a me io avevo quando Al Gore candidava alla presidenza degli Stati Uniti avevo qui 12 o 13 anni però c'è questo problema qua che adesso è quello che sta succedendo con l'ultima generazione che dice che nel 2030 perderemo il 90% dell'agricoltura nel mondo è una puttanata fotonica colossale ok e quindi nel 2030 troverai quelli che dicono ah ecco però dieci anni fa quelli sulle autostrade dicevano che è come se quelli fossero i rappresentanti del mondo scientifico non contano un cazzo sono quattro scappati di casa Matteo è qua a spiegarci quali sono i rischi e non dice che perderemo l'agricoltura nel 2030 Matteo è il climatologo qua Matteo è ovviamente che collaborano con lui tra l'altro questo è uno dei problemi anche che vediamo spesso nei dibattiti televisivi in cui magari allo pseudo scienziato di turno che magari scienziato lo è davvero ma in altri campi è diventato idolo dei negazionisti eccetera anziché affiaccarci uno scienziato autorevole uno scienziato competente nel campo molto spesso viene affiancato come parte contrapposta ad un attivista che magari tante volte non ha le competenze per poter ribattere a queste persone o magari appunto arriva a fare del catastrofismo e in questo caso si non supportato dei dati creando appunto un ulteriore danno alla comunicazione scientifica non si sta criticando l'attività degli attivisti ci mancherebbe altro ognuno agisce come meglio crede io non sto giudicando questo giudicando proprio l'opportunità di esporsi come comunicatore sui cambiamenti climatici senza averne le capacità e le conoscenze in quel caso di sì che si rischia poi di avere di dover arginare i danni fatti anche da chi in buona fede comunque dice cose sbagliate perché bisogna anche ammetterlo che ci possono essere comunicazioni sbagliate da chi supporta la causa della lotta ai cambiamenti climatici sì no poi vabbè allora lì c'è da un lato tu non li giudichi io sì nel senso che molto spesso cioè si creano questi culti che io li chiamo cioè sono culti millenaristi di fatto il mondo sta per finire penitenziagite cioè di fatto sono si comportano in quel modo quindi io non li approvo io ho un'opinione ma non la dico io sono sul mio canale dico la mia tu sei libero di dire la tua sei libero di non dirla io la mia la dico senza farmi troppi problemi no quello che volevo dire invece che ci sono questi personaggi che girano per le tv sono tre che sono Franco Battaglia Franco Prodi e Prestininzi non mi ricordo come si chiama di nome ecco che dicono delle puttanate ma che sono che io che non sono un climatologo io le so come dire smentire in cinque secondi ed è per questo che come dire poi invitano l'attivista perché altrimenti viene meno quel pollaio che è quello su cui i giornalisti fanno audience cioè se trovi quello che dice no guarda stai dicendo una scelta perché tipo una roba che tira fuori sempre battaglia è l'equazione di Swarshield l'equazione di Swarshield è una roba che modellizza sostanzialmente la diffusione del calore in un fluido ed è e lui dice che l'equazione di Swarshield nega il cambiamento climatico ho parlato in pagina ecco c'è un solo problema che l'equazione di Swarshield vale se sono trascurabili i fenomeni di emissione e riassorbimento di fotoni che è il motivo per cui il cielo è azzurro ok che i fotoni vengono riassorbiti e riemessi nelle frequenze dell'azoto che corrispondono al colore azzurro quindi noi vediamo il cielo azzurro per via di questo fenomeno si chiama scattering di Riley ora secondo te si può si può escludere i fenomeni di scattering e applicare l'equazione di Swarshield nell'atmosfera considerato che l'intera atmosfera ci sembra azzurra a causa di un fenomeno di scattering cioè questa è una puttanata che dice battaglia che però in tv nessuno gli dice ma stai dicendo una stronzata se avessi ragione non vedremmo il cielo azzurro cioè nessuno gli dice sta cosa perché nessuno la sa battaglia quello famoso che aveva scritto qualche anno fa un libro che negava i cambiamenti climatici antropici di 32 pagine mi pare e il blog di Prima Interante aveva sperato ogni singola pagina trovando tipo 140 errori cioè fatevi un rapporto del numero di errori rispetto alle pagine di questo libro e vi mettete le mani nei capelli quindi stiamo parlando di questo tipo di personaggio è un professore di chimica universitario quindi lui sarà assolutamente competente nel suo campo io non lo so non lo giudico ma sicuramente non è competente nel campo dei cambiamenti climatici è smentito praticamente da tutta la comunità scientifica però purtroppo queste persone pubblicano sulla verità pubblicano i loro libri pubblicati da case editrici senza alcuna per review ma guardate caso non pubblicano sulle riviste scientifiche di battaglia prodi che è uno di ritenuto addirittura a livello internazionale credibilissimo e robe varie assolutamente competente nell'ambito della fisica delle nubi che è il suo settore ma quando ha pubblicato cose legate ai cambiamenti climatici come l'ultimo articolo che ha provato a pubblicare ritirato perché? perché aveva fatto cherry picking aveva selezionato i dati che supportavano la sua teoria aveva pubblicato le robe sbagliate quindi l'articolo è stato ritirato a Franco Prodi chissà perché sì vabbè i deliri a cui sono arrivati di recente tra l'altro che invece c'è troppa poca CO2 in atmosfera stiamo ammazzando le piante sono dei deliri interessantissimi sì comunque appunto Prodi tra l'altro dai negazionisti è un altro che viene definito spesso candidato al premio Nobel il più grande climatologo al mondo Prodi dal punto di vista dell'eclimatologia è un signor nessuno e non è mai stato candidato al premio Nobel perché il candidato al premio Nobel è uno status che non esiste non esiste invece qua ci sono una domanda invece più strana tra l'altro scusa Luca di domanda seria quindi vai vai parlando di premi Nobel gli unici ad aver vinto un premio Nobel nell'ambito dei cambiamenti climatici sono Manabe il suo collega di cui non ricordo il nome Giorgio Parisi cos'era due o tre anni fa proprio per dei lavori che loro avevano fatto addirittura agli anni settanta che hanno contribuito a comprendere e a capire il fatto che i cambiamenti climatici sono proprio d'origine antropica quindi se vogliamo prendere dei Nobel li abbiamo e dicono che i cambiamenti climatici sono di origine antropica no ma poi il bello è che ah ma il premio Nobel Clauser dice che non è vero ho capito e gli altri cioè il premio Nobel Parisi dice che è vero allora che cazzo è cioè palesemente Clauser ha vinto il premio Nobel su cose che non hanno nulla a che vedere con i cambiamenti climatici su una cosa la mia tesi di laurea è sui lavori di Clauser la mia tesi di laurea magistrale è tutta sui lavori di Clauser Ornish Simone e Holtz su quantum information theory la mia tesi di magistrale proprio sul loro lavoro qua prima chiedevano se il discorso del permafrost c'è anche questo rischio qua cioè se nel per l'articolo anche proprio pubblicato dall'ESA e tra l'altro uno non tantissimo tempo fa che abbiamo riportato anche noi su Chiaporo del Buio che rischia quello di risvegliare di liberare ad esempio virus o batteri o cose così che erano presenti migliaia di anni fa e che possono ritornare attivi proprio grazie alla fusione allo scioglimento del permafrost quindi è una cosa assolutamente vera ripeto ci sono articoli poi anche pubblicati sul sito dell'Agenzia Spaziale Europea che con alcuni dei suoi satelliti monitora anche il permafrost nella regione ad esempio siberiana quindi assolutamente sì è una cosa vera siamo lontani dalle cose apocalittiche dei film horror però è una cosa magari realizziamo il mio grande sogno il mio grande sogno è un vaccino con il 100% di efficacia per un virus che abbia il 99% di letalità e poi poi vai Dinovax e dici allora che facciamo quelli che rimangono quelli che rimangono gli altri li butti nelle foste comuni pazienza invece questa era una domanda seria chiedevano appunto che cosa c'è da aspettarsi nei prossimi anni per quanto riguarda nubi fragi e flash flats alluvioni lampo scrivo la domanda la tolgo per farlo sì allora come detto è difficile associare i singoli eventi estremi ai cambiamenti climatici perché bisogna fare uno studio a posteriori capire se la dinamica atmosferica che ha portato alla genesi di quel fenomeno estremo sia in qualche modo connessa ai cambiamenti climatici ad esempio i mari molto più caldi che possono fornire più energia alle perturbazioni questo può essere una conseguenza dei cambiamenti climatici quindi bisogna fare un ragionamento un po' più ampio difficile riferirsi al singolo episodio c'è da dire ad esempio prendiamo l'alluvione in Romagna maggio dell'anno scorso se non ricordo male maggio del 2003 è arrivata dopo un periodo di lunghissima siccità soprattutto sul nord ovest siccità ne abbiamo parlato tantissimo che ha colpito duramente in generale l'Italia e soprattutto il nord Italia e in particolar modo il nord ovest non pioveva non nevicava sulle montagne i fiumi erano secchi i terreni erano completamente aridi ora perché questa è una cosa che può aver accentuato l'alluvione in Romagna perché la siccità produce come effetto come conseguenza il fatto che i terreni abbiano una capacità di assorbimento molto più scarsa dell'acqua quindi l'arrivo di tanta pioggia concentrata in poco tempo in poco spazio è stato anche accentuato dalla siccità quindi stiamo parlando di due aspetti probabilmente legati ai cambiamenti climatici opposti ma strettamente connessi l'uno con l'altro il fatto che ci può sembrare controintuitivo ma ci sono dei lavori che dimostrano come il fatto che ci possono essere periodi di siccità molto più prolungati nell'area mediterranea possano essere legati anche ad alluvioni più frequenti proprio per questo motivo quindi è una cosa a cui bisogna prestare molta attenzione proprio anche in questo senso quindi i cambiamenti climatici possono accentuare possono estremizzare possono rendere più frequenti le alluvioni lampo come quella successa in Emilia Romagna o come quella successa in Toscana a novembre o come quella nelle Marche o come quella nel Torinese di questi giorni in teoria sì non è così banale associare i fenomeni estremi ai cambiamenti climatici soprattutto in una regione circoscritta come quella italiana è difficile anche trovare dei lavori chiari e netti come posizione in questo senso ma le probabilità chiaramente ci sono mari più caldi quindi il bacino mediterraneo che ha molta più energia disponibile per eventuali perturbazioni provabili periodi di siccità più prolungati e più frequenti che esasperano la capacità di assorbimento da parte dei suoli e quindi alle prime piogge diciamo che la stessa quantità di pioggia può causare alluvioni più distruttive rispetto al passato perché i terreni sono molto meno capaci di assorbire l'acqua saluto Elisa che viene nostra conoscente quando dicono un terreno molto secco recepisce meno acqua di uno più umido sì guarda fai la prova nel senso se tu prendi le tue piante in giardino sul balcone nel vaso e non le bagni per una settimana lasciando che il terreno si secchi quando provi a metterci l'acqua l'acqua rimane lì ok fa una polla in una pozza in superficie per un po' perché il terreno è duro se invece la pianta è bagnata regolarmente il terreno è umido quando versi l'acqua l'acqua viene immediatamente assorbita di nuovo un esperimento che puoi fare con il vasetto che hai fuori ovviamente non lo far seccare troppo ti muore la pianta c'è un'altra cosa che che è vero poi quando piove tanto i terreni si saturano però quello è un processo molto più graduale quando si parla di terreni secchi è proprio la causa dell'alluvione in lampo perché il terreno già dall'inizio non è in grado di assorbire quindi tu inizia a piovere l'acqua non viene assorbita rimane in superficie e quindi scivola da un lato non viene assorbita quindi rimane molta più acqua in superficie è disponibile per inondazioni seconda cosa l'acqua è molto più veloce in un terreno secco e la velocità è un'altra cosa molto importante ad esempio quando si cementano gli albe dei fiumi si aumenta la velocità dei fiumi e quindi si possono generare inondazioni in maniera molto più facile quindi ha un doppio effetto il fatto che i terreni possono essere secchi proprio associato all'alluvione in lampo c'è questa domanda qua poi ragazzi vi dico che tra dieci minuti chiudiamo perché insomma devo cenare devo anche lavorare dopo quindi insomma mi sembra a caso di lasciarlo andare l'aumento delle temperature oceaniche perturba le correnti e la circolazione termoalina quanto impatta questo sul clima si può pensare che al limite una circolazione interrotta potrebbe portare di nuovo a un aumento delle calotte oltre che ad un'estremizzazione delle differenze termiche in base alla latitudine No non è una domanda sciocca è un po' anche quello che sta alla base di quello che avevo detto prima per quanto riguarda diciamo non l'interruzione ma il disturbo della corrente del golfo qualsiasi cosa che comporti un cambiamento di circolazione oceanica comporta anche un cambiamento di circolazione atmosferica perché le due cose sono intimamente proprio intimamente connesse quindi necessariamente il disturbo delle correnti oceaniche porta dei cambiamenti che possono essere anche sostanziali a livello atmosferico dire che oddio dire che aumentino le calotte artiche eccetera può ad esempio essere associato all'interruzione della corrente del golfo perché abbiamo mari più freddi e quindi più facilità al ghiaccio di occupare superficie marina stiamo poi entrando un po' in quello che è lo scenario del film The Day After Tomorrow che ha delle basi scientifiche chiaramente esasperate in tema fantascientifico per il cinema però quello che succede nel film The Day After Tomorrow non è una cosa campata in aria come dinamiche e non quello che succede come dinamiche non è una cosa una cosa campata in aria perché un'interruzione della corrente del golfo può portare a una maggiore discesa di aria fredda e una maggiore tensione dei ghiacci artici almeno nel comparto europeo quindi assolutamente i disturbi interruzioni cambiamenti delle circolazioni in generale oceaniche sono fortemente associati a cambi atmosferici c'è a dire una cosa mi associo a una cosa importante perché negli ultimi anni stiamo avendo maggiori irruzioni dell'anticiclone africano quindi ondate di calore maggiore ci sono degli studi che cercano di spiegare questa cosa che lo leggono anche cambiamenti climatici il fatto che ad esempio gli oceani siano più caldi ha fatto sì che il famoso anticiclone delle azzorre si spostasse verso nord ovest rispetto alla sua posizione originale quindi si allontanasse in qualche modo dall'Europa motivo per cui ha avuto meno ingerenze nel comparto europeo ma se l'anticiclone dell'azzorre ha meno influenza sul comparto europeo quello che ha più libertà di agire è l'anticiclone africano che ha più libertà di spostarsi verso l'altro mentre prima c'era l'anticiclone dell'azzorre che lo schiacciava lo teneva lì buono buono verso l'Africa adesso questa cosa negli ultimi anni non c'è più stata quindi lo spostamento dell'anticiclone dell'azzorre verso nord ovest ha lasciato campo molto più libero all'anticiclone africano di stendersi verso nord Europa questo è intimamente connesso anche appunto all'aumento delle temperature oceaniche che ha causato gli scompensi atmosferici ci sono ancora dei lavori scientifici quindi sono diciamo ipotesi i cui dati iniziano a confermare quanto detto ma sono cose che accadono assolutamente sì allora Frank Wayne 78 certo che puoi fare una domanda qua mi chiedono perché non parlo di portacontainer energia nucleare ne abbiamo parlato tante volte stasera non è il tema della serata comunque in generale si potrebbe benissimo fare è sicuramente la soluzione migliore per decarbonizzare ma ci sono dei paesi che impediscono ai vascelli a propulsione nucleare l'attracco e quindi nessuno costruisce una porta container che puoi può attaccare solo in certi porti e non in certi altri perché nessuna società di shipping comprerebbe una porta container che può attaccare solo in attaccare in certi porti e non in certi altri quindi finché non vengono rimossi questi ban del cazzo non si faranno perché non c'è un incentivo economico a farli allora sì poi volevo aggiungere intanto che Frank Wayne fa la domanda che poi a lungo termine nel senso non lunghissimo ma tra un secolo o due per quello che ne sappiamo potrebbe anche esserci una nuova era glaciale causata dalle attuali emissioni di CO2 nel senso che poi gli effetti di feedback come ho detto la forchetta si allarga e si allarga ad un punto tale che a un certo punto non puoi capire non sappiamo più idea di cosa succede e ci sono magari ci possono essere dei fenomeni di feedback al contrario per cui è un aumento delle temperature e poi è un rimbalzo repentino esistono dei fenomeni che possono però non lo sappiamo cioè il punto è che più le temperature le lasciamo aumentare più il margi il nostro margi la nostra capacità di prevedere come sarà il clima tra 30 anni viene meno e quindi magari va tutto bene magari c'è un'era glaciale magari c'è un finiamo come venere non lo so le conseguenze sono estreme meno siamo in grado di agire con la nostra tecnologia questa è un'altra cosa da considerare e spesso questo non viene considerato ma tanto riusciamo ad adattarci no perché poi ad un certo punto finiamo le tecnologie in grado di limitare le conseguenze dei cambiamenti climatici proprio perché c'è quello che dici tu arriviamo a dei punti che le cose non saranno più controllabili più gestibili sì non sapremo veramente più cosa aspettarci a distanza di due anni cioè non sapremo più potremmo avere a distanza di due anni inverni rigidissimi con meno 30 a Torino e inverni dove non scende mai sotto lo zero a Torino e a quel punto come fai a capire quando devi isolare per il freddo e quando invece devi hai bisogno di meno freddo cioè è lo stesso modo avrai delle stati fresche quest'estate è relativamente fresca nel nord ovest italiano ok e poi avrai dell'estate con le ondate di calore a 55 gradi a Torino come oggi ce le hai a Nuova Delhi allora tanti auguri se il condizionare cioè a condizionare tutto avrai le persone che muoiono di caldo in casa muoiono letteralmente non nel senso metaforico si muore di caldo e ok ecco la domanda di Frank Wayne c'è il rischio che in Sicilia dopo tutto questo caldo verso agosto ci siano bombe d'acqua poi come mai noi in Sicilia non facciamo come fanno in Arabia con la pioggia artificiale beh la pioggia artificiale l'ho spiegato prima non gli fate ripetere le cose nel senso si può fare se hai già delle nuvole da pioggia e riesci ad aumentare leggermente o a spostare leggermente la precipitazione non puoi crearla dal nulla la pioggia ok è possibile che ci siano bombe d'acqua allora la Sicilia come detto è la regione che in questo momento sta soffrendo in maniera bestiale la siccità perché davvero non piove da un sacco di tempo a differenza di quanto è successo nel centro nord che nell'ultimo mese è venuta tantissima pioggia e in Sicilia no quindi non piove è un problema enorme per la siccità quindi il rischio potenziale di nubi fragili è elevato perché poi i mari comunque continuano ad essere con temperature al di sopra della media quindi prima o poi la pioggia tornerà in Sicilia e rischio che lo possa fare con fenomeni molto violenti e ripeto il problema della siccità è quello di accentuare il rischio di inondazioni lampo quindi la preoccupazione c'è perché con i mari ancora molto caldi avviandoci poi con la finire della stagione estiva verso l'autunno con contrasti atmosferici molto estremi la mia paura è che fenomeni estremi in Sicilia possono essere molto più accentuati proprio dalla siccità che perdura da mesi e mesi il motivo è quello che abbiamo spiegato prima sui terreni molto stessi e tra l'altro la Sicilia che è per motivi storici un luogo dove innanzitutto si è costruito un sacco di abusivo questo è un dato di fatto è un dato di fatto e dall'altro lato è un territorio che è sempre stato bene dal punto di vista climatico nel senso che la Sicilia non ha mai avuto mentre non lo so nel Vercellese le inondazioni le hanno sempre avute ok quando ci fu la seconda guerra di risorgimentale piemontese allagarono le risaie per fermare gli austriaci ok perché lì l'acqua abbiamo fatto la centrale nucleare di Trino perché c'era pieno d'acqua la Sicilia non è abituata quindi un'inondazione in Sicilia può veramente provocare dei danni umani ed economici devastanti devastanti quindi cioè sì c'è da preoccuparsi c'è da preoccuparsi queste sono cose serie va bene sono le 22.59 ragazzi io direi che abbiamo fatto una live veramente molto densa di contenuti molto interessante quindi io ringrazio tantissimo Matteo per essere stato con noi abbiamo cerito un po' assolutamente grazie a te dell'invito è stato un piacere sapete anche voi tutti adesso come rispondere ai complottisti la settimana prossima la live non c'è perché io sono via mentre la settimana dopo vi faccio un annuncio che vi farà piacere per chi torna da noi Roberto De Fez a raccontarci cosa è successo col campo di coltivazione di riso risottimo geneticamente modificato che è stato distrutto ma per fortuna non tutto è perduto quindi parleremo di TEA tecniche di evoluzione assistita parleremo di CRISPR e di OGM e della ricerca che si fa in Italia ci sono state anche delle sentenze del consiglio di stato interessanti quindi l'appuntamento è per il 18 con Roberto De Fez grazie mille ragazzi buonanotte grazie Matteo grazie grazie a te Luca grazie mille